Andiamo al segno dell'acquario, una luna fantastica per voi, quella che transita nel segno dei gemelli. Almeno per oggi sarete di buon umore, ecco. E vedervi di buon umore è uno spettacolo, perché sappiamo quanto voi acquari sapete essere disponibili nei confronti degli altri, dare una mano dove è necessario, essere sempre pronti all'intervento qualora qualcuno ve lo chiedesse. E in questa giornata dimostrerete ampiamente queste vostre doti, queste vostre qualità. Abbiamo detto che il periodo rimane sempre un periodo di metamorfosi, di cambiamento, che piano piano, piano piano voi iniziate anche un pochettino a metabolizzare. Vi state rendendo conto che molte cose sono cambiate intorno a voi e dovete iniziare a fare di necessità virtù. Quindi stiamo parlando di adattamento e questa luna vi permette di adattarvi al meglio, anche ad alcune situazioni che fino a ieri assolutamente non volevate accettare. Andiamo al segno dei gemelli.